salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ormai è imminente l'arrivo negli store online del attesissimo autel ivo nano questo drone di casa autel che pesa 249 grammi è il primo drone da 249 grammi per quanto riguarda autel che dovrebbe poi diventare o dovrebbe essere il punto di riferimento appunto di questa categoria di droni per lo meno per quanto dichiarato sulla carta e sulle schede tecniche qua ho i tre droni che attualmente rientrano in questa categoria di peso sto parlando di droni con caratteristiche di video e foto importanti quindi sono film x8 mini hapsan zino mini pro e dji mini i2 autel dovrebbe inserirsi in mezzo a loro ma non dovrebbe solo inserirsi dovrebbe essere in teoria il punto di riferimento cioè il migliore dei quattro perché diventeranno appunto quattro almeno così sembrerebbe l'uscita è imminente perché dovrebbero arrivare negli store tra il 15 e 20 novembre quindi non manca tanto ad arrivare negli store almeno così dovrebbe essere salvo ritardi e ho deciso appunto di fare questo video per consigliarvi e diciamo vogliamo segnalarvi dove poter prenotare questo piccolo drone perché comunque è un drone super richiesto ha già avuto un sacco di preordini e autel adesso essendo un marchio che sta crescendo non è più come quando io ho portato qua su canale il primo autelivo cioè proprio la prima versione dell'autelivo in cui lo bisognava acquistare solo negli stati uniti altrimenti non lo si poteva acquistare adesso invece autelivo si è espansa e ha rivenditori dappertutto anche in italia ovviamente ha i suoi rivenditori quindi questo permette a noi clienti di avere tutti i vantaggi di un acquisto molto più sicuro anche dal punto di vista dell'assistenza perché a differenza di Fimi o di Apsan dove l'assistenza è un po' latitante e lascia un po' il tempo che trova autelivo invece espandendosi con tanti rivenditori anche in Europa appunto sta diventando dal punto di vista dell'assistenza un po' come è DJI quindi tanta tanta sicurezza nel caso di problemi però appunto come vi dicevo il sito che vi voglio consigliare oggi è di un rivenditore che ovviamente non è rivenditore solo autel e loro sono importatori e rivenditori DJI ma sono anche rivenditori autel e il sito è Beatsmodel non so se tanti di voi già lo conoscono magari altri no quindi vi segnalo questo sito perché lo potete prenotare gratuitamente quindi potete fare un preordine e quando i droni arriveranno appunto nei loro magazzini inizieranno a inviare le mail a tutti quelli che l'hanno preordinato ovviamente andando in ordine di data di preordine che bisogna fare il pagamento per far sì che poi il drone vi venga spedito quindi potete fare il preordine ed è già una cosa interessante è utile gratuitamente e in più potete attivare sempre da loro quando acquistate il drone l'autolorobotic care che appunto è questa sorta di copertura come quella che ha anche DJI come quella che ha anche Apple queste garanzie di copertura in caso di danni accidentali causati da noi in cui il drone vi viene sostituito e via dicendo potete attivare anche questa e in più cosa da non sottovalutare perché loro quelli della Beats Model hanno il vantaggio che hanno un centro di assistenza loro cioè loro sono un centro di assistenza sia per DJI che per Autel quindi hanno un laboratorio loro quindi in caso di problemi anche non di garanzia anche fuori garanzia e via dicendo nel caso poi non abbiate attivato l'autolorobotic care e via dicendo potete comunque contare su di loro per la riparazione quindi davvero davvero tanta roba secondo me vale la pena preordinare un prodotto o acquistare un prodotto da un sito online tipo questo perché avete tantissima sicurezza poi già il fatto che sono sia importatori che rivenditori di DJI vi fa capire comunque che non sono micio micio baobao quindi il mio consiglio è ragazzi se volete questo drone affrettatevi a prenotarlo perché comunque super richiesto e andando a ruba le scorte finiranno subito probabilmente ci vorrà un po' prima che poi ritornino disponibili io vi consiglio di preordinarlo se vi interessa se siete interessati sia la versione diciamo nano normale che la versione plus indipendentemente quale voi vogliate ma secondo me fate bene a preordinarlo vi lascio il link in descrizione appunto per fare il preordine o dargli anche solo un'occhiata se vi interessa così capite anche chi sono questi della Beats Model perché comunque come vi ho detto non si tratta solo di Outel ma anche di DJI quindi secondo me appoggiarsi a store di questo tipo soprattutto quando si acquista un prodotto di un determinato costo ci sta tutto anche per un discorso appunto di assistenza post vendita dove comunque sapete dove fare riferimento per qualsiasi problema perché magari potreste anche trovare un'offerta con un prezzo migliore però dovete anche tenere conto il fatto che qua c'è sempre qualcuno che vi risponde in seguito alla vendita e in più avete anche la possibilità nel caso troviate un'offerta migliore del prezzo che hanno loro vi viene rimborsata la differenza del prezzo quindi un altro ulteriore vantaggio per noi consumatori se acquistiamo appunto da Beats Model quindi ragazzi questo era solo un video per mettervi al corrente che comunque Outelievo Nano salvo sorprese o salvo ritardi dovrebbe arrivare tra il 15 e il 20 di novembre quindi dovremmo più o meno esserci e se dovete siete intenzionati ad acquistarlo ragazzi mi raccomando ascoltate il mio consiglio e prenotatelo da Beats Model quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho dato il mio consiglio e il mio suggerimento su dove acquistare e preordinare l'Outelievo Nano vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità spoiler voli in FPV stampe 3D tantissime cose arrivano su Instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale adesso ho aperto anche un nuovo canale Telegram che si chiama usato poco da un nerd e mezzo dove metto sui prodotti che magari ho recensito in cui ci ho fatto solo qualche prova e che adesso per mancanza di spazio per non tenerli fermi li metto su a un buon prezzo quindi li potete acquistare se vi interessano vi lascio tutti i link in descrizione quindi il link dei Beats Model il link dei miei canali Telegram e però ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo un'accensione un testo un tutorial una novità ciao